Per la canoa, la barca bella e le altre attività ho detto perché non concludere, però metterci anche le piscine visto che ne abbiamo tre meravigliose e quindi dare la possibilità anche alle persone con varie disabilità motorie o meno di poter entrare in acqua. Quindi ho fatto questa richiesta e devo dire che il comune ha accettato e ha comperato appunto, dando l'ok a me e a Sasavanec, questo sollevatore per mettere le persone in acqua quindi sono molto contenta di questo.